Giovedì 10 febbraio, ben ritrovati con TG Mattino, buongiorno a tutti. Veniamo subito a vedere le prime pagine di carattere nazionale, partendo dal messaggero. In primo piano, gas, sconti alle imprese, il governo prepara il piano. Tetto al prezzo per le aziende, c'è anche un bonus per famiglie. Draghi a Genova, il PNRR di tutti gli italiani, ci entreremo gli obiettivi, ha detto il Premier. Le parole anche del Ministro, al turismo, Garavaglia, estate senza pass e meno tasse per gli alberghi. Ancora, sempre dalla prima pagina del messaggero nazionale, vedete dal box a destra, da Perugia, bullizzati in classe dai compagni e troppo brava. Voti troppo alti per la ragazza che ha avuto dei veri e propri episodi di bullismo, poi lo vedremo. Veniamo quindi anche alla nazione, sempre di carattere nazionale la testata. Si spengono le luci, impennata delle bollette, oggi monumenti al buio. In molte città, nuove speranze per l'energia, riesce il test della fusione nucleare. In Umbria, prostituzione minorile, prete a processo, come si può notare anche dal box a destra. Quindi, le notizie in primo piano di carattere appunto nazionale, tornando al messaggero. Il caro bollette, tetto al prezzo del gas per aiutare le imprese e bonus per le famiglie. Ci sarà un intervento, dichiara Draghi, di ampia portata per chi è in difficoltà. In arrivo la vendita di metano a sconto. Le parole anche di Bonomi servono manovre strutturali, ha dichiarato. Le misure potrebbero toccare i 7 miliardi, comprenderanno l'azzeramento degli oneri di sistema per le famiglie. Il PNRR degli italiani, centreremo tutti gli obiettivi, ha detto Draghi a Genova nel suo tour italiano. Il capo del governo prepara un tour in alcune città cruciali per valorizzare le aree da dove il paese deve ripartire. Qui era proprio in foto dal Porto Ligure per quanto riguarda il Premier. E poi il bar, il ristorante e la piscina, meno incassi e costi più alti. Con rincari fino al 300%, le imprese adottano stratagemmi per risparmiare, luci spente. Nei centri per il nuoto l'energia pesa il 50% e anche lo sci è in crisi 20 mila euro a ettaro per innevare. Tanti dunque i settori colpiti dal caro bollette, l'energia pulita del futuro ha acceso una piccola stella nel reattore sperimentale dell'Unione Europea. Fusione nucleare più vicina per 5 secondi, 0,2 milligrammi di idrogeno hanno prodotto il megawatt. Questo dunque sul messaggero. Che poi riporta l'intervista a Massimo Garavaglia, il ministro del turismo. Meno tasse per gli hotel ed estate senza green pass. Ripartiamo dall'evento con Jacobs, il campione dei 100 metri ai fori imperiali. Bus turistici e tour operator. Pensiamo di ridurre la contribuzione per 6 mesi. Questo dunque per quanto riguarda il messaggero. Mentre sulla nazione il mondo si libera delle restrizioni. Scusate. Solo speranza frena. Serve cautela. La Francia verso la revoca del green pass. Scusate davvero. A Londra neanche i positivi andranno in isolamento. I dubbi del ministro è presto. E presto dichiara per togliere le mascherine anche al chiuso. Ma Draghi vuole allinearsi al resto dell'Unione Europea. Passiamo quindi alle testate di carattere regionale. Corriere dell'Umbria. Frutta e verdura aumenti del 30%. I rialzi continui dei costi dell'energia e le gelate pesano sui prodotti agricoli. Oggi protestano anche i comuni. Intanto la fotonotizia centrale riguarda la diga del Chiascio che servirà acquedotti per Perugia Trasimeno. Umbria che di fatti ha annunciato di aver avviato il progetto per collegare l'invaso agli acquedotti del Perugino. Con i lavori che sono stati quantificati in un lustro dunque in cinque anni. Prostituzione minorile invece. Giudizio immediato per il parroco di San Feliciano. Don Vincenzo Esposito era stato arrestato ad agosto nell'ambito di un'indagine condotta dai carabinieri di Termini Imerese. A Gubbio il noto chef ma anche conduttore tv borghese che ha girato una puntata di quattro ristoranti. E' stata consegnata la patente da matto. E poi da Terni torna in funzione il centro rifiuti dell'asma. A Foligno strada chiufa da sei anni a causa di una transenna. Mentre per lo sport Sir in Champions per volare ai quarti. Stasera a 19.30 si gioca il derby con Trento per quanto riguarda l'Europa. Poi anche lo speciale l'Umbria che eccelle. Lo vedremo nel dettaglio nel corso di TG Mattino. Veniamo anche alla Nazione al centro. Torniamo a sorridere. Da domani via le mascherine all'aperto. Ma con prudenza dichiarano i VIP Umbri in foto Miss Umbria Sara Villa. Poi ancora sopra prostituzione minorile. Prete a processo per Don Vincenzo Esposito. Ex parroco di San Feliciano. Ora i domiciliari disposti il giudizio immediato. Dalle città i locali gettonati a Perugia. Affitti in ripresa grazie a lavoratori e universitari. Ed assesi in arrivo 1,8 milioni per i beni culturali della città serafica. Da Terni vigilante in tasche 200 euro persi da un cliente. Mentre appena sotto la testata all'Eurovision Song Contest l'Umbria sarà in vetrina con due cartoline promozionali. Mentre boom di truffo online è colpa della pandemia corraffica di denunce anche dalla regione. L'evento poi sportivo ad aprile il primo rally città di Foligno. Mentre il chiascio andrà a sfociare nel Trasimeno. Via libera al progetto di Umbria. Acque come abbiamo visto. Veniamo anche al messaggero dunque. Le parole della Presidente Tesei. Acciaio e idrogeno le nostre sfide. Vogliamo convertire Gualdo Cattano e Pietra Fitte. Il piano Arvedi può valere un punto di PIL. Dichiara proprio la governatrice. Quindi da Perugia sequestrate decine di cartelle. Esenzioni dal vaccino. Indagata dottoressa. Altri medici potrebbero finire nel mirino. E poi l'abbiamo visto anche dalla prima pagina nazionale. Da Perugia è troppo brava a scuola e i compagni la bullizzano. Studentessa esclusa da chat e vita di classe. A Fontiveggia appartamenti covo. Scovati ed espulsi due spacciatori. E poi la fotonotizia anche qui. L'acqua del futuro con il super progetto di Umbria. Acque per quanto riguarda la diga sul chiascio a Valfabrica. Ancora Perugia scuola a Firenze per rifare le vetrate. A marzo tre pezzi della sala dei notari saranno restaurati. Terni, San Valentino, Basilica con vista di scarica. Area ripulita. I residenti grazie ai regbisti. Quindi lotta il covid. Nuovo picco della curva dei decessi. Dopo purtroppo gli ultimi dati arrivati nelle 24 ore precedenti. Veniamo quindi anche alle notizie di carattere sportivo. Da Perugia Alvini studia l'assetto Curi. I nuovi pronti dal primo minuto. Ternana, Bogdan, il croato. Luca Relli è un faro di chiare il difensore da poco arrivato in casa Rossoverde. Mentre per la Sir Perugia missione a Trento per lo scacco di Champions. Tre protagonisti. Anche Giannelli qui in foto che sarà peraltro il grande ex della partita. Questo dunque per quanto riguarda ancora le testate possiamo andare quindi alle notizie in primo piano partendo proprio dal Corriere dell'Umbria e partendo dal Chiascio dove l'acqua della Diga sarà per il Perugino Trasimeno. Dal PNRR 16,2 milioni per l'opera che collegherà l'invaso con il sistema idrico del capoluogo e della zona del lago. La tempistica è previsto che dalla progettazione al via in questi giorni alla realizzazione dell'opera passeranno cinque anni per questo progetto ambizioso. Qui anche Filippo Calapresa, presidente di Umbracco, con l'amministratore delegato Tiziana Buonfiglio e Renzo Patacca, rispostabile investimenti e tutela della risorsa idrica. In primo piano per questo progetto. Ancora la stretta sul credito rischia di mettere capo l'edilizia con partigianato, così verrà meno efficace della misura. Gli architetti grave contro il colpo sulla ricostruzione. E poi Tagliani su Twitter, in Umbria cresce la famiglia di Forza Italia. Il coordinatore nazionale diceva i tre nuovi amministratori locali. Veniamo quindi ancora al Corriere, concorso sanità in 6.645 per 94 posti da OSS. Già esclusi altri 97 aspiranti concorrenti, il bando è di quasi un anno fa annunciate per marzo le prove di selezione per gli operatori sociosanitari. Intanto segnalati 68 casi di violenza nei confronti di medici, infermieri e psicologi per quanto concerne il piano aziendale. Le parole anche dell'assessore Melasecchi, aumenti contenuti per le case popolari. Oggi presidio di protesta da parte dei sindacati. Questione vaccini in farmacia, 46 mila dosi alvene, azioni anche a 12-17 anni. Continua la lenta discesa degli attualmente positivi, che ieri sono diminuiti, di 300 arrivando a 17 mila. Si registrano però altri 5 decessi per Covid ospedali che tengono. E poi la questione del caro bollette e dei rincari. Prezzi, frutte, verdure e rialzo per rincari energie gelate, l'aumento medio del 30%. I commercianti di Campagna Amica, a cui ritratti anche in foto, dichiarano riduciamo i nostri margini per tutelare il consumatore. All'ingresso finocchi e carciofi raddoppiati rispetto un anno fa, le pere aumentano di 1 euro al chilo. I costi di produzione anche dei prodotti da forno sono cresciuti del 30-40% e al banco ittico, introvabili le specie che si pescano lontano dalla costa. Ancora, per noi piccoli e sempre più dura, gli operatori del mercato coperto di terni segnalano clienti in calo e un'attenzione piuttosto chirurgica al risparmio. La vera differenza la fanno qualità e servizio. Bisogna coccolare chi acquista con idee e offerte particolari. Questa è la cura proprio per tenersi i clienti. E poi comune a luci spente contro le superbollette, la protesta dei sindaci, parla Toni Accini, presidente Anci, cui in foto è necessario comprendere le ripercussioni di questa emergenza, detto. E poi sindacati studenteschi denunciano caro abbonamento per i mezzi pubblici e per il tristo della Lega chiede il rimborso, quote entro fine anno. Passiamo alla Nazione. Via le mascherine torniamo a sorridere. Da domani stop all'obbligo all'aperto, da Strabioli a Missumbria a Saravilla, passando per Guarducci e Boranga, bene così ma con prudenza. Sono stati intervistati appunto alcuni personaggi regionali che hanno detto la loro sulla questione. Altre cinque vittime in tante vaccinazioni in calo, esenzioni dalle dosi anticovidi, indagato una dottoressa perugina, accertamenti dei carabinieri sui certificati rilasciati ai pazienti. Ancora serve equità di accesso alle cure, cittadinanza attiva tribunale per i diritti del malato dell'Umbria sul piano sanitario regionale, fatti non parole, dichiarano in contumacia. Le buone intenzioni non devono rimanere sulla carta, priorità risolvere la carenza cronica di medici e infermieri. L'appello anche della CISL, legittimare il ruolo degli universitari, personale che svolge funzioni assistenziali senza un vero status giuridico, dichiarano. E poi ancora ospedale di Branca, in arrivo fondi per l'adeguamento. La regione stanza un milione per consolidare e potenziare la struttura sanitaria. Eugubina, mentre a Pian di Massiano si sposta il drive-thru più spazio al mercato, si libera l'area parcheggio davanti allo stadio. Il caro Bollette spegne la luce sui monumenti, anche Anciumbra aderisce alla protesta nazionale. I sindaci si rischiano di dover scegliere tra gli equilibri di bilancio e i servizi ai cittadini. Oggi, dagli ore 20, i fieri testimoni delle città della regione resteranno al buio, ovvero i palazzi storici, chiaramente. Progetti PNRR, una sfida per cui servono più tecnici. Il Comune di Perugia si sta operando per rafforzare gli uffici competenti in vista del piano nazionale. Ripresa resilienza. Prostituzione minorile. Don Vincenzo ha processo. Per l'ex parroco di San Feliciano, disposto il giudizio immediato, avrebbe chiesto dietro pagamento prestazioni sessuali a 4 sedicenni. Ai domiciliari, il religioso adesso si trova in una struttura gestita dalla Curia a Villa Sacro Cuore di città di Castello. Mentre emergenza truffe su internet, traffica di denunce, Spoleto, signora raggirata con la tecnica del phishing, altre due persone denunciate dai crabinieri di Deruta. E poi clandestini a Fontiveggie si nascondevano nei palazzi occupati. Veniamo ancora sotto i riflettori della nazione. Tornano lavoratori universitari, così aumentano anche gli affitti. E quanto emerge dall'ufficio studi del gruppo TecnoCasa, la tipologia è più richiesta nella regione. E il trilocale viene evidenziato con il 46,3% dei contratti di affitto che è stipulato da lavoratori, il 24,4% dagli studenti. Mentre anche l'Umbria sarà all'Eurovision Song Contest, dove parteciperanno i vincitori di Sanremo, Mamù De Blanco, ma durante l'evento saranno trasmesse due cartoline proprio della regione Umbria. Veniamo al messaggero. Covid, altri cinque morti, settimana nera della quinta ondata. In lieve risalita i degenti ordinari, 11 casi sono di gestanti o bambini. Vaccini, il 77,4% degli immunizzati con ciclo primario è coperto con il booster. La curva resta in fase discendente e in provincia di Perugia si è ridotta quasi mille casi per 100.000 abitanti. Nessun nuovo contagio negli ultimi sette giorni a Monteleone di Spoleto, Poggio Domo e Vallo di Nera. La battaglia sulla sanità del futuro ancora sul messaggero. Distretti extralargi e ospedali, cittadinanza attiva, bacchetta il piano. E poi l'inchiesta. Esenzioni dal vaccino, indagata dottoressa. L'accusa è di falso ideologico, altri medici potrebbero finire nel mirino della procura. Sequestrate dai carabinieri del NAS 25 cartelle cliniche di assistiti. La professionista si difende non solo una Novax, ma è mio dovere valutare tutti i fattori di rischio. Ma è mio dovere valutare tutti i fattori di rischio, ha detto proprio la dottoressa in questione. E poi domani un evento molto atteso con l'Università di Perugia che sostiene le donne in scienza nel nome di Ursula Groman, recentemente scomparsa la ricercatrice. Veniamo quindi ancora alle scelte per la ripartenza con l'intervista alla Presidente della Regione, Donatella Tesei. Sono idrogeno e acciaio le sfide proprio dell'Umbria. Con il bando del Governo proveremo a convertire Pietrafitta e Gualdo Cattaneo di Chiara Tesei. Incontrerò presto il Cavaliere Arvedi, per quanto invece concerne Aste Terni. Il piano può valere un punto di PIL per quanto concerne proprio le acciaierie di Terni. Qui proprio i nodi decisivi, la centrale di Pietrafitta da riconvertire. Il futuro delle acciaierie è importante per l'Umbria e poi dalla Terni Rieti alla FCU. Per quanto riguarda anche i collegamenti su ferro nel PNRR abbiamo ottenuto il rifacimento dell'asse Terni Rieti, che è il proseguimento della Ferrovia Centrale Umbria. Decisiva anche la nuova stazione intermodale di Perugia. Con le strada, sottolinea proprio la Presidente. Ultimi approfondimenti di carattere regionale dal Corriere dell'Umbria. Permessi soggiorno truccati, 13 a processo. L'Avvocato Bertoldi patteggia un anno e 10 mesi. La funzionaria della questura è stata rinviata a giudizio. C'è ancora medico indagato dal NAS per esenzioni al vaccino. Scatta la denuncia per una dottoressa del Perugino, come abbiamo visto. E poi si butta nella fontana spray per bloccarlo. Sono intervenuti i carabinieri e hanno appunto bloccato questo cittadino straniero 36N. Abusivi in Palazzo Fontiveggia. Identificati due clandestini. Pattuglione della Polizia di Stato insieme agli agenti della Municipale dopo la segnalazione di situazioni di degrado. Quindi scarico delle distillerie dissequestrato lo ha deciso il Tribunale del Riesame. Nel nuovo procedimento penale a carico dell'azienda di Ponte Valleceppi contestate violazioni ambientali. Musica alta di notte, litigio tra vicini, arriva la Polizia. È successo proprio nel Perugino con intervento della squadra volante. Quindi ancora da Perugia tornano a brillare le storiche vetrate della Sala dei Notari. Sopra il luogo del Sindaco Romizzi al Laboratorio Polloni di Firenze dove si sta completando l'intera opera di pulitura e restauro con l'intervento finanziato. Grazie alla donazione del notaio Briganti scomparto lo scorso maggio fa parte del progetto Art Bonus. Comitato Chianelli in piazza con le primule della speranza e volontari in prima linea per sostenere la ricerca. E poi ancora in città risuonano le note di Agimus a Palazzo Gallenga. Oggi alle 18, evento inaugurale affidato a 8 giovani cantanti lirici. Il maestro Silvestre ha presentato la stagione e 31 i concerti in programma dal 10 marzo al 15 dicembre. Degustazioni di frittelle alle giornate del Bartoccio. E poi ancora Madonna Alto, ultimati il centro servizi con due piani dello stabile che ospiteranno le azioni sociali di agenda urbana. E la piazzetta intitolata a Pietro Scarpellini. La giunta comunale ha approvato nuovi nomi per strade, piazze e rotatorie. Anche sul messaggero da Perugia. Odissea per una raccomandata. Sette giorni di ritardo per il ritiro, il rimpalo tra gli sportelli e le code. I disagi anche di un pensionato perugino a vuoto fino a Ponte San Giovanni. Sempre da Perugia. Opera d'arte al parco vittime delle foibe per quanto riguarda il giorno del ricordo. Anche qui vetrate della notaria, le prime tre restaurate torneranno entro marzo con tanto di foto che lo testimoniano per quanto riguarda il restauro. E poi questa storia troppo brava a scuola, bullizzata dai compagni. Giorgia a nome di fantasia, esclusa da chat e feste di classe per ripicca. Succede in un istituto superiore perugino. I suoi voti alti vengono mal visti da tutti. Dirigenza, genitori, associazione Libertad Margot al lavoro per risolvere la situazione. Quindi, presunzione di innocenza, procure a confronto. Via Angeloni e via del lavoro, scoperti altri appartamenti covo e ci sono stati due espulsi. Permessi falsi in questura, avvocato patteggia, 13 a processo, come abbiamo visto. Prima di passare ai territori, vediamo anche i siti internet ancora indicesi talmente positivi. su www.trgmedia.it per quanto riguarda il coronavirus in Umbria. Qualche anticipo anche delle notizie sportive. Con l'Olbia potrebbe tornare il doppio centravanti. Sarà spalluto dal primo minuto per il Gubbio Calcio. Intanto diramate dalla Lega date orari fino a fine campionato. Le trovate proprio sulla notizia. E poi un vertice. Visita del Vescovo di Gubbio, Monsignor Luciano Polucci Bedini, in comune. I giovani e la loro crescita al centro dell'incontro. Poi il nostro archivio video, sempre aggiornato, www.trgmedia.it. Umbria 24, certificati per l'esenzione dal vaccino, dottoressa indagata per falso ideologico. E poi ancora picchie mandi in ospedale, la compagna due volte in 48 ore, mi strisciava il coltello sulle gambe. Testimonia. Veniamo anche a Perugia Today, prostituzione minorile, giudizio immediato per l'ex parroco di San Feliciano. E poi permessi di soggiorno con il trucco, grazie a un avvocato e impiegati in questura, condannere in via giudizio per 14. 14 persone. Tuttoggi.info, nasce primogenita, ma il papà vieta l'ingresso in ospedale. Vede figlia dieci giorni dopo, successo a Città di Castello. Ne abbiamo parlato anche nel nostro Tg qualche serata. Orsono, Alessandro Borghese è matto onorario di Gubbio, dopo la registrazione del programma Quattro Ristoranti. E poi Lega Forza Italia, un duello lungo, quanto Corso Vannucci, ammucchiati in centro per quanto riguarda anche il dibattito politico a Perugia. Veniamo anche Gualdo News. Giunta regionale arrivano 6,5 milioni per l'ex ospedale Calai e l'Avis di Gualdo Tadino metta concorso 5 tablet per studenti maturanti donatori. Torniamo dunque ai territori e lo facciamo ripartendo proprio dal Corriere dell'Umbria con Monte del Lago che torna a risplendere per quanto riguarda Magione sopra il luogo dell'assessore regionale a Gabiti. Puntiamo alla valorizzazione dell'intero Trasimeno, si legge. E poi sesso online con ragazzi minorenni. Giudizio immediato per l'ex parroco Don Vincenzo, come abbiamo visto anche in precedenza. Veniamo ad Assisi, al volante sotto effetto di droga e alcol, controllo di carabinieri e polizia, tre patenti ritirate, autista di tir trovato con la cocaina nel portafogli. E poi incontri in diocesi e sostegno di malati. Ad Assisi partecipa anche il Vescovo Sorrentino con due appuntamenti. A Todi torneranno a volare le Mongolfiere, uno degli eventi già confermati per i prossimi mesi insieme ai festival dedicati alla musica e al cinema. Piazza del Popolo sarà sede espositiva per un artista internazionale. Mentre a Marsciano, questione furti, preoccupano i nuovi colpi messi a segno nelle frazioni. Bottino magro ma danni ingenti nelle abitazioni prese di mira nei giorni scorsi nel Marscianese. Veniamo a Città di Castello. Lavoro e giustizia sociale le nostre sfide. Approvata maggioranza le linee programmatiche della Giunta Secondi. No dell'opposizione. La Lega si astiene. Intanto torna il premio Città di Castello in giuria. Grandi nomi della cultura tra cui Alessandro Quasimodo che sarà tra i giurati del premio letterario giunto alla sedicesima edizione. Sarà anche il presidente di giuria nella circostanza. Quindi ancora per quanto riguarda sempre l'Alto Tevere al Campus Da Vinci 275 nuovi iscritti per 7 indirizzi. L'Istituto Superiore di Umbertide si conferma tra preferiti di studenti e famiglie. Saldi in attivo tra ingressi e uscite in 200 a giugno per la maturità. Così si legge con il ringraziamento della dirigente Burzigotti. A Città di Castello Enrico Loverso ha gli illuminati con uno nessuno e centomila. L'appuntamento è tratto domenica pomeriggio con l'attore siciliano alle prese con il testo di Pirandello. Mentre cambio direttivo alla Proloquo di Umbertide, Becchetti e presidente Camilla Becchetti. Passaggio di testimone con l'uscente Burzigotti. Veniamo a Gubbio. Anno di cambiamenti per i campanari. Pelicci lascia dopo 60 anni di attività. La compagnia leggerà il nuovo presidente nei prossimi giorni. Grazie per il suo esempio, lo ricorda Loris Ghigi per quanto concerne proprio i campanari di Gubbio. E poi celebrazioni per Federico da Montefeltro. Pronti 160 mila euro sono stati assegnati dal Ministero della Cultura per le manifestazioni legate ai 600 anni della nascita del Duca di Urbino. Il comitato guidato dal Comune sarà in collaborazione con la città marchigiana. E poi patente da matto per Alessandro Borghese, come abbiamo già visto qui in foto, con l'assessore Damiani e il presidente del Maggio Eugubino Cancellotti. Quindi passiamo a Gualdo Tadino, ma prima ci fermiamo, proprio perché si parla di Gualdo Tadino e si è parlato anche precedentemente di rincari. Ha ripreso il proprio iter lavorativo, la taggina di Gualdo Tadino, dopo un periodo di stop dovuto proprio ai rincari. E sull'argomento abbiamo sentito anche il sindaco Massimiliano Presciutti. Sentiamo. Aveva deciso di sospendere per un mese circa la propria attività e produzione per le difficoltà dettate dall'enorme aumento dei costi energetici, cresciuti del 500%. Da lunedì Tagina, azienda controllata del gruppo laziale Saxagress, ha riacceso i forni dello stabilimento di Gualdo Tadino. Abbiamo rinegoziato con soddisfazione i prezzi dei prodotti, commenta il presidente Francesco Borgomeo, adeguandoli ai nuovi costi di produzione per gli incrementi del gas e delle materie prime. Tutto riparte con grande fatica e con la speranza che i costi dell'energia scenderanno. Tagina è riacceso i forni lunedì. Dopodomani incontrerò in città l'amministratore, il presidente Borgomeo, perché faremo il punto sia sulla situazione contingente, ma anche e soprattutto sugli investimenti che il gruppo Saxagress vuole fare anche a Gualdo Tadino, che sono investimenti importanti che tendono appunto anche a andare verso l'economia verde, rendendo le fabbriche autosufficienti dal punto di vista energetico. E anche qui abbiamo un nemico comune, che è la burocrazia. Credo che gli itera autorizzativi di impianti tesi a garantire l'autosufficienza energetica attraverso la produzione di biometano debbano essere velocizzati, perché ne va della competitività delle nostre imprese e ne va quindi anche del futuro dei lavoratori e della comunità. Ma i rincari non mettono in ginocchio solo le aziende. Anche i comuni devono fare i conti con le spese per la pubblica illuminazione e per il riscaldamento degli edifici di competenza. Arriva allora la richiesta da parte di Aliumbria di attivazione di un fondo speciale per fronteggiare le difficoltà economiche. L'inflazione, il caro dell'energia, delle bollette elettriche sta mettendo in ginocchio interi settori industriali, tante famiglie, ma anche i comuni e gli enti locali. Nel nostro caso siamo passati da 44 mila euro di spese del novembre 2021 a 160 mila euro di spese nel dicembre 2021. Quindi un aumento sproporzionato, una speculazione che rischia di mettere in ginocchio i nostri bilanci e quindi anche i servizi che i comuni danno. Quindi sì, spegneremo la roccaflea e aderiremo a questa protesta simbolica. Però la battaglia continua perché anche Anci a livello nazionale, Dali a livello nazionale, stanno interloquendo col governo nella speranza che ci siano risposte immediate perché questo serve. I costi piombano come una spada di damocle anche sui nuclei familiari. L'amministrazione gualdese ha stanziato contributi per arginare gli aumenti di luce, gas ed energia elettrica. Noi abbiamo messo a disposizione 75 mila euro riservate alle famiglie per aiuti per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas e per gli affitti. Abbiamo studiato un bando molto snello e semplice. L'unico requisito è la residenza nel comune e un'ISE non superiore a 15 mila euro. Le domande possono essere fatte entro il 31 marzo per dare la possibilità a chi ancora non ce l'ha di fare l'ISE. Come si vede i comuni, non solo il nostro, stanno cercando di mettercela tutta, ma da soli sicuramente non ce la facciamo. Quindi a maggior ragione serve un intervento delle istituzioni sovracomunali. E da Gualdo Tadino rubano liquori al supermercato per 1100 euro, sempre sul Corriere dell'Umbria. Le donne sono state identificate grazie alle telecamere e denunciate dai carabinieri. Hanno usato delle borse schermate. Il turismo di prossimità premi Musei Cittadini, prorogate le mostre sempre nella città gualdese, mentre sabato Fratelli d'Italia presenta il nuovo direttivo alle ore 11 nella sala consigliare proprio di Gualdo Tadino. A Nocera Umbra, città in festa per San Rinaldo, il Vescovo, diversità come valore. E sempre da Gualdo, scelti i componenti della segreteria del PD. Assegnata anche una delega esterna a Ilari Anastasi. Le eccellenze, l'Umbra che eccelle sul Corriere nel rispetto dell'ambiente con due aziende che sono in primo piano. Poi le vedremo in qualche modo. Intanto direi di passare al messaggero per quanto riguarda sempre i territori. Assisi trovato con la cocaina, la guida di un tir, patente sospesa. Città di Castello, Corai Burzigotti nel CDA della Fondazione Burri. A Deruta, mobili scontati e venduti online è una truffa. Mentre a Gubbio, bandali in azione al parcheggio di San Pietro è successo proprio nelle scorse ore per una questione che si ripercuote. Vediamo se riusciamo ora in qualche modo a ripartire sempre con il Corriere dell'Umbria. A breve avremo appunto la pagina proprio dai territori con l'Umbria che eccelle. Ricordo poi a termine di questa puntata di TG Mattino, torna il caffè. Parleremo di sana alimentazione, già lo annuncio. Dicevo appunto dell'Umbria che eccelle nel rispetto dell'ambiente. Due aziende in primo piano, Cancelloni e le C3 Trasporti. Cancelloni, 60 anni per la ristorazione. Una storia di famiglia iniziata con papà Domenico e portata avanti dalla seconda generazione. Il cibo deve essere esperienza. Fabio e Simona Cancelloni alla guida dell'azienda si definiscono innovatori del food service. Ancora non solo cibo ma anche editoria e noleggio per quanto riguarda un ramo specifico dell'azienda che riguarda la pubblicazione del bivestrale multimediale Orizzonte della Cancelloni Food Service. E poi LC3 Trasporti, sfida sostenibile. Nasce a Gubbio nel 2009 e nel 2014. Vengono messi su strada 5 prototipi per quella che è la rivoluzione in movimento. L'azienda utilizzato per prima in Italia ha mezzi pesanti alimentati con metano liquido. Fa il punto proprio il corriere. Pionieri dei carburanti alternativi, Ambroge e Berrettini. Abbiamo intercettato le scelte green dei clienti. Direttore generale, account manager raccontano la svolta ecologica nella logistica per quella che è definita una grande famiglia di lavoratori. L'azienda conta 440 dipendenti che hanno garantito l'attività anche durante il lockdown. Torniamo invece a Foligno, clochard a Porta San Felicianetto. Sotto al portico sono comparse coperte oggetti personali. Una testimone senza tetto lì da qualche giorno hanno bisogno di aiuto. E poi marito geloso picchia la moglie. Lei chiede aiuto alla polizia. La donna raccontata di violenze verbali e fisiche anche davanti ai figli. Quindi sempre da Foligno, da sei anni strada bloccata da Transenne. In via San Carlo Borromeo, residenti prigionieri di un cantiere infinito. In via Colombo Antonietti c'è chi si affaccia anche sulle impalcature. Priore Quintanari, costretti a cercare un'altra sede per la taverna, si sono trasferiti in vicolo per Tichetti per quanto concerne il rione Lamora. Qui vedete proprio il cantiere dimenticato, anche ritratto da queste foto. Veniamo quindi a Spoleto. Picchia la compagna, condannata a due anni e otto mesi. La donna è finita al pronto soccorso due volte in 48 ore per le botte ricevute. L'avvocato del 36enne farà ricorso. Mentre per quanto riguarda ancora la cronaca, rubati 200 euro dalla carta di credito di una cinquantenni, i carabiniere hanno denunciato per truffa il responsabile del fishing. Veniamo quindi ancora da Spoleto. Luci artistiche sui monumenti per rendere la città più bella. Entro l'estate il completamento dell'intervento da 340 mila euro voluto dal comune, qui raffigurata Piazza Duomo. Ancora ex staffetta partigiana compie 100 anni. A Viola Giorgetti sono arrivati gli auguri del sindaco di Spoleto. Mentre a Giano dell'Umbria vogliamo proseguire quanto di buono fatto lo scorso anno. L'amministrazione Petruccioli ricorda i risultati raggiunti e guarda i fondi del PNR per lo sviluppo. Veniamo quindi ancora a Terni, sempre dal Corriere. ASM torna in funzione il centro rifiuti. A meno di sei mesi dall'incendio è stato rimesso nuovo l'impianto di selezione e trasferenza di Maratta. Garantita la sicurezza e c'è anche un sistema moderno per abbattere gli odori, ha detto proprio il presidente di ASM. Intanto progetti per strade e anche per il dissesto idrogeologico, Palazzo Spada appunto, ottenere i finanziamenti dallo Stato. Richiesti fondi per 4 milioni e 135 mila euro. Compre un motorino online ma viene truffato. Il caso arriva proprio anche qui dal Ternano. Vigilante si tiene un borsello smarrito. Il 45 ne si è appropriato dei soldi invece di restituirli a chi li aveva persi. E poi due tifosi denunciati dai carabinieri. Petardi con le minacce sotto l'albergo dove alloggiavano gli avversari della Ternana. Ancora da Terni dal PNRR fondi per le imprese ma l'Umbra deve fare rete. Lettera della CNA al sindaco in primo piano la sfida dei contratti di sviluppo e anche l'innovazione qui in foto. Laura Di Mizziani referente CNA Umbra per Terni. L'influencer Matteo Cola alla cascata delle marmore con tanto di foto. E poi nuovo stadio determinante il ruolo del comune per quanto riguarda il progetto della Ternana Calcio. Buoni primi passi ora aspettiamo Arvedia alla prova dei fatti. Fiume Cigiella a proposito della nuova proprietà di Asta a Terni. E sempre da Terni Arti Marsella e pistola al peperoncino per difendersi dall'aggressione. Al via il corso organizzato dall'Accademia Italiana di Autodifesa e tenuto da esperti si rivolge non solo alle donne ma anche agli uomini alle stesse forze dell'ordine che i propri partecipanti e i maestri ritratti in foto con questo revolver al capsicum che neutralizza e che ha cattive intenzioni nel rispetto delle norme vigenti. Fili colorati rosso-verdi domani intanto in BCT. Roberta Ronchetti presenta il suo libro con dei big dello sport, della moda, della musica e della pasticceria tra cui anche Riccardo Zampagna ex attaccante della Ternana qui in foto. Veniamo ancora al Corriere Narni Tardella al Festival di Berlino. Presenterà l'unico cortometraggio italiano in gara nella prestigiosa Kermess cinematografica. La pellicola come protagonisti, Simone Evangelista e Mattia Rega. Lavori in corsa a Narni per le zone 30, Bruschini contesta la giunta. E poi Orvieto, lavori pubblici 25 milioni in tre anni, fondi per la messa in sicurezza di strade e scuole ma anche per le aree archeologiche. Il programma è stato approvato in Consiglio Comunale. Tigli pericolanti abbattuti sulla Statale 71 sempre nei pressi di Orvieto, rifiuti abbandonati in un terreno sempre nell'Orvietano. A Porano il sindaco Conticelli è positivo al Covid. Ha lievi sintomi e si trova in isolamento. Lo sostituirà il vice Bonino. Torniamo dunque sempre al messaggero da Foligno. Serve un rilancio concreto per dare futuro a Belfiore. Siamo la porta della valle del Menotre ma nessuno sembra saperlo di che erano i residenti. Così non va. Ci sono situazioni di degrado da risolvere e si deve pensare a un'area gioco per i bimbi. Quindi da Nucera Umbria il sindaco San Rinaldo protegge la città per la festa del patrono. E poi lo sport. Foligno come Monte Carlo avrà i suoi due giorni di rally. Un evento in arrivo proprio nella città della Quintana per quanto riguarda i motori. Botte davanti ai figli è stato condannato a Spoleto. Sottoponeva la compagna a tante angherie. Due anni e otto mesi al 36enne Spoletino. Quindi ancora al Caio Melisso per sette giorni si parlerà del fiero popolo dei Franchi. Una settimana di studi dell'alto medioevo. Terni, San Valentino, Basilica con vista di scarica, rifiuti, erbalte, vagabondi, l'ex Prampo Pili. Peggio che mai. La struttura sorge a ridosso della chiesa e della Statua del Santo. Lotta al degrado, l'altra faccia del quartiere. I residenti ringraziano la Ternana Regbi per aver ripulito proprio un'area. La viabilità in tilt nella settimana dei festeggiamenti per i lavori di asfaltatura per il 14. Finiamo. Dichiarano ricandidatura a Latini. Prizzi, bene, ma il centrodestra resta al momento in silenzio per quanto riguarda la situazione da Palazzo Spada. E poi lesioni colpose. Assolto con formula piena di Girolamo chiamato in causa da un giovane caduto in via Sabottino a causa di una buca. Il giudice di pace ha detto il fatto non sussiste. ASM riapre la stazione di trasferenza dei rifiuti, stoppa tutti gli odori. Piediluco, lavori sospesi per la legnaia, sospetti, il tarare spinto e il ricorso dei tre proprietari. Mentre ad Amelia cambiano gli orari delle medie ed è subito polemica per quanto riguarda la scuola. Eventi Valentiniani si parte dalla musica jazz al cioccolato. Oggi pomeriggio a Piazza della Repubblica il taglio del nastro di Cioccolentino 2022. E poi ancora cammino di San Valentino. Domenica ci sarà l'anteprima proprio del progetto. Questo per quanto riguarda dunque anche il messaggero. Torniamo alla Nazione sempre per i territori. Da Magione il chiascio andrà a sfociare nel Trasimeno. L'abbiamo visto il progetto di Umbria. Acque, mentre da Piegaro autobus e trasporti scolastici. Dove sono i rimborsi annunciati con la lista civica che va all'attacco dell'amministrazione? Guida il tir con la cocaina in tasca. Da Assisi la polizia gli ritira la patente. Segnalato un giovane pugliese. Incidenti stradali sul territorio. Targhe falsificate. Personal volante sotto effetto di droga. Da Gubbio ridateci i ceri. Gubbio chiede aiuto a tutti. Dopo Regione e Prefette quest'ora la città si rivolge anche ai parlamentari umbri. Che sabato incontreranno il sindaco stirati. Non possiamo stare per il terzo anno senza la nostra storia pronte al rispetto delle regole. Questo l'appello al sindaco. Da Nocera Umbria non siate vittime della tecnologia. La festa di San Rinaldo, monito del Vescovo, unire e non dividere. Da Gubbio sempre Scuola Aldomoro. Completati il trasferimento. Verrà interessata da lavori di messa in sicurezza. Durante il trasloco in via della Piaggola i studenti saranno in DAD. E poi da Gualdo Tadino rubano 32 bottiglie di superalcolici. I pregiovani, come abbiamo visto, sono state denunciate. Da Città di Castello, Slow Food, ecco i corsi, creano eccellenze e lavoro. Accordo tra associazione del cibo, l'Istituto Patrizzi, Valdelli, Cavallotti. Serve agli studenti per avere più prospettive occupazionali del territorio. Il Mediterraneo è al centro del premio letterario. Con la nuova edizione della rassegna Tifernate. La presentazione ufficiale con l'assessore Botteghi. E appunto Bella che è l'editore del premio. Burri aiuta a raggiungere 10 milioni di turisti. L'analisi dell'Agenzia Umbra Ricerche e l'Arte Contemporanea. I musei di Città di Castello possono essere ponti culturali per quanto riguarda le opere del maestro Burri. Realtà giovanile abbraccia la città. Il Vescovo Polucci Bedini, proprio a Umbertide, come abbiamo visto anche dal nostro sito. A Foligno in città arriva il rally. Maxi sfida primavera. La gara su sfondo sterrato intitolata alla città di Foligno. Sarà una delle novità della stagione agonistica di quest'anno. Avrà come scenario la valle Umbra, appunto. Da Foligno ancora a Diga di Acciano. I ritardi sono dovuti a una piccola infiltrazione. Da Spoleto, Don Matteo per Bova, Niente Bici. Il nuovo protagonista della fiction sul Prete Detective si sposterà in moto. Ultimi giorni di riprese in città. Mentre a Sant'Erenziano il grande ritorno del Festival della Porchetta. L'appuntamento con i golosi sarà dal 17 al 19 giugno. Siamo da Terni, lavoratori nel CDA di Asta. Idea romantica. Il segretario Fiummi, impraticabile. Non è previsto dalla legge. Pensami invece a temi come precarietà, appalti, energia e ambiente. Sostiene Alessandro Rampiconi. Di Mizziani attivare una rete anche con altri distretti produttivi. Ha detto la referente ternana di CNA per quanto riguarda Terni. E poi da Orvieto. L'eldorado immobiliare mostra le prime crepe. Il mercato del mattone ha smesso di crescere dopo l'esplode degli ultimi anni. I valori restano comunque i più alti della provincia. E poi Ferrovie, prima linea idrogeno. Confermata la sperimentazione sulla tratta Terni sul Mona. Veniamo anche dunque al Tempo Libero. Cultura, spettacoli e società dalla Nazione. Chi ha paura di Virginia Woolf al Morlacchi. Sonia Bergamasco racconta l'attesissimo spettacolo diretto da Antonio Vlatella in arriva a Perugia dal 16 al 20 di febbraio. Giulio Scarpati invece a Foligno con il teatro comico di Goldoni. Scena stasera al Politea Maclarici. Mentre una lunga stagione di concerti. L'Ajimus si schiera dalla parte dei giovani. Alvei cartilone varato con Università per stranieri. Treventi e sorprese. Oggi il primo appuntamento con inaugurazione ufficiale il 10 di marzo. Mentre dal Ministero 1.800.000 euro per assisi nel piano strategico. Grandi progetti per i beni culturali. Anche sull'album del Corriere. In primo piano invece il rapper Ponteggiano Blind. Più scatenato che mai. Punto dritto all'Aerovision. Dichiara dopo la delusione di Sanremo. Il cantante Umbro tenta con una voce per San Marino. E poi Mannaggia e i cinque anni che hanno fatto storia. Sempre più punto di riferimento per gli appassionati di libri. Appunto il ritrovo per chi ama la lettura. E poi il Mannaggia a Perugia. Questo dunque per quanto concerne anche la pagina culturale. Passiamo allora allo sport. Ripartendo proprio dal QS. Inserto sportivo per quanto riguarda la nazione. Perugia adesso serve una risposta al Curi. In trasferta Biancorossi Quinti. In casa il piatto piange. Alvini valuta la formazione. Conto il Frosinone potrebbe inserire dal primo minuto. D'Urso arrivato proprio vicino al gong di mercato dal Cittadella. Il trequartista. La sfida non è tra quelle più agevoli. Arriva il team laziale che come il Grifo rende al meglio lontano dalle mura amiche. Dunque massima attenzione. Gli stadi intanto pronti ad aprire al 100%. Il Curi però farà ancora eccezione. Lo stadio Biancorosso resta di nuovo al 50%. La Nord sottolavori ospiterà 1200 spettatori. E poi il Volley Sir Perugia. Stasera torna alla Champions League. Sfida tutta italiana. Trento per il primo posto. Foligno squalificati invece in Serie D il portiere De Oliveira e il tecnico Monaco. Serie D sempre. Tresti Natiferno. Il derby si gioca sabato alle ore 15. Mentre in Serie C il Gubbio cerca punti. Tornano di noia e cittadino. Dunque Torrente ritrova due pezzi importanti per la propria mediana. Domenica partita della Verità contro l'Olbia. Si gioca alle 14 al Barbetti. Ternana, Serie B, Falletti e Salsano non recuperano. Cuzziopas in dubbio per la gara di Pisa. A due femminile. Umbertide oggi ospita Selargius nel recupero e spareggio per la Coppa Italia. Si gioca alle 15.30 al Palamorandi. E si rigiocherà poi anche domenica contro Cagliari. Sempre al Palamorandi. Veniamo al Corriere dell'Umbria. Anche qui per quanto riguarda lo sport in primo piano. Perugia attacco al bunker. Il Frosinone ha difesa meno battuti in trasferta. Malvini concede poco alle Big. Curado unico indisponibile. Oggi seduta a porte chiuse per quanto riguarda il Grifo. Serie B, Ternana. Rigorista cerca Siferi. Il dischetto è quasi un tabù. Solo due reti su sei tentativi dagli 11 metri. Tre penalti falliti per Donnarumma. Uno per Partipilo. Questo per quanto riguarda la situazione delle fere. Cuzzio a passaparte per la vecchietta contro la regina. In forte dubbio dunque il centrocampista. Tra gli assenti anche Falletti e Salsano. I due verso il forfe per sabato con il Pisa. Tentativo solo per la panchina per l'Uruguagio. E poi Sir ora stacca il biglietto. Perugia in campo alle 19.30 a Trento. Il passaggio quarti è matematico in caso di vittoria. Ancora Out Colaci che può tornare tra due domeniche. tempi più lunghi invece per Ricci. Dunque per quanto riguarda la quinta giornata alla BLM Group Arena di Trento. Nell'altro match Fenerbahce ok con la vittoria a Cannes per tra due nell'anticipo di martedì sera. Torniamo al calcio. È il gubbio calcio. L'Olbia va attaccata. Parla Silvio Mercai bomber perugino che domenica scorsa ha rifirato due gol ai sardi con la maglia della Virtus Centella. Bisogna cercare la profondità e sfruttare le palle inattive ha detto Mercai. I pericoli ragazzo e iudo la coppia d'attacco. Ma i rosso-blu hanno arena e capace di giocate importanti ha detto Mercai ex Castel del Piano e Foligno. Dilettanti San Benanzo, Fausti e Leonardi, Mingione, Addio all'Assisi, Subasio. Ancora dilettanti Viole, Donofrio, Scegli, Rassina, Colpi di Real, Avignano e anche Proficulle. Serie D, Infinito e Susi. Gioco finché segno. Il bomber del Trestina ha realizzato la prima doppietta in campionato. È da quota 7 reti di classe 1984. E sabato c'è il derby con il Tiferno che sarà senza Martinello per due turni. Ancora dai dilettanti le squalifiche offese via megafono al direttore di gara e arriva la stangata. La grifo si vigillo paga caro il comportamento del pubblico. C'è chi strettona l'arbitro per il braccio due mesi di stop. Bazzucchi intanto è del Bastia e Fanini cambia maglia. Veniamo quindi all'automobilismo. Il rally fa tappa a Foligno. Organizzazione al lavoro per la prima edizione di una gara che promette spettacolo. L'evento è in programma il 9 e 10 aprile. A partenza prevista dalla zona industriale La Pacciana. E poi ancora calcio. Serie D. Falco, sedi messolini e rottura tra club e tifosi. Il vicepresidente nonché responsabile degli impianti dice basta in arrivo un portiere da affiancare a De Oliveira che sarà squalificato. Intanto bevi l'acqua in gol con la rappresentativa. Anche l'allenatore Monaco fermato due giornate dal giudice sportivo. E poi ancora basket. Cigold. Il Todi ha zannato il derby. Una vittoria fondamentale contro Foligno. Trastulli e Marzullo devastanti nel recupero della terza di ritorno. Per quanto riguarda appunto la Cigoldi pallacanestro. L'obiettivo di Todi è evitare i play-out. Tra le file della Lucky Wind. Ribeiro, immarcabile. Per lui sono 29 i punti a referto. E poi in A2 femminile. P.F. Umbertide in missione finale Italy. 15.30 in casa contro Selargius. Per prendersi l'ultimo posto utile in Coppa Italia. Chiudiamo con il messaggero dunque. Per quanto riguarda sempre lo sport sarà un grifo formula Curi. Cambi per vincere in casa. D'Urso, Beghetto, Livieri pronti dal primo con il Frosinone. Alvini all'organico quasi al completo. Soltanto curado. Finora non è disponibile. Per la tradizione podistica perugina. Si corre la trassi meno. Stavolta sono cinque i percorsi diversi. E poi, sempre da Perugia, Sira e Trento per lo scacco Champions, ma con qualche assenza su tutte. Quella del libero Colaci e del centrale Ricci. Dei centrali Ricci e Russo, per la precisione, come abbiamo visto. E poi Bogdan, il croato. Luca Relli, un faro. Tornando al calcio, la Serie B. Il difensore racconta il suo rapporto con l'allenatore che lo aveva già allenato a Catania. L'esperienza in Italia, gli allenamenti con papà Franco. Il difensore si racconta al messaggero. La gestione dei liberati, convenzione, nodo canone, il comune si affida all'esterno. Orvietana, bomber Nicodemo, costretto a due settimane di stop. Parliamo di eccellenza. Orvietana è capolista nel massimo campionato regionale. Dalla gara contro il Lama, uscito malconcio, proprio Nicodemo. Anche Guazzaroni, oltre a Nicodemo, appunto, un campo pessimo, ha detto mister Ciccone. Questo dunque per chiudere anche la questione legata allo sport sui quotidiani. Già vi ricordo da ora, 19.30, 20.20, stasera il nostro TG Sera. Ma ora, dopo un pizzico davvero di pubblicità, non andate via perché torna, come ogni giorno ormai, da questa settimana, il caffè su TRG. E parleremo, per quanto riguarda questa puntata, di sana e corretta alimentazione. Restate con noi.